Sappiamo che sarà una partita difficile perché ci sarà da soffrire, in parte durante la partita, però sappiamo che avremo le nostre occasioni da sfruttare, non abbiamo nulla da perdere, quindi è giusto giocarci la partita a viso aperto, sapendo degli errori fatti all'andata, ma sapendo anche delle cose fatte bene durante la partita di qualche settimana fa. Siamo sereni e convinti che tutto possa succedere.